Torino, uno FIB, parte la prima apertura automatizzata in Italia di chiese e monumenti incustoditi, si potranno visitare tramite smartphone con la app chiese a porte aperte. È una sperimentazione tecnologica innovativa, nata in Piemonte nell'ambito di città e cattedrali, progetto ideato da Fondazione CRT e Diocesi del Territorio, con Regione Piemonte e Mibact. I primi due beni, scelti per la presenza di pitture murarie di pregio, copertura di rete mobile e impianto elettrico, sono la Cappella di San Bernardo di Aosta a Pioso, in provincia di Cuneo, Diocesi di Mondovì, e la Cappella di San Sebastiano a Giaveno, Diocesi di Torino. Sono solo le prime due, è un modello di intervento che può fare scuola e già guarda al futuro, spiega il presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia. La Chiesa Piemontese e Valdostana, aggiunge Derio Olivero, vescovo delegato per i beni culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Piemontese, è consapevole delle straordinarie potenzialità di questo progetto.